nuovo prize pool 2024 di sorare e carissime e carissime siamo di nuovo qua sul mio canale per parlarne lo leggerò per la prima volta insieme a voi quindi insomma ci saranno probabilmente degli errori ma insomma se ci sono delle considerazioni che volete fare ve lo dico già all'inizio del video ve lo ricorderò alla fine scrivetelo qua nei commenti ricordo anche che se siete interessati a seguire tutte le vicissitudini e le grandi miravolanti avventure del darione qua su youtube cliccate sulla campanella per essere aggiornati costantemente di tutti i nuovi video che usciranno proprio qui sul canale vi ricordo anche che c'è un super telegram un bel gruppo di ragazzi che giocano al solare con grande passione lo trovate qua nella descrizione se poi siete proprio iper 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 infognati con asia vi consiglio di iscrivervi al mio patreon in cui io do analisi precise e dettagliate in modo esclusivo sul campionato coreano e sul campionato giapponese che dire di più iniziamo a vedere insieme questa straordinaria nuovo prize pool allora prima di proseguire vi consiglio un sito strepitoso se già non lo usate per tradurre tutto quello che non sapete insomma da inglese francese coreano giapponese greco aramaica no però insomma ecco qua è di pool di pool.com tra l'altro non sono sponsorizzato da di pool quindi faccio in maniera totalmente gratuita e uso infatti la parte totalmente gratuita del sito si può anche scaricare a velo sul desktop è in questo momento secondo me è quindi posso ovviamente sbagliarmi ma diciamo che quello che io preferisco usare per fare le traduzioni insomma da tutto il mondo detto questo andiamoci a vedere la transition to solar pro 2024 sono affrontati all'interno della della transition che ho visto rapidamente appunto ma devo leggerla con voi tutta una serie di questioni ovviamente prima di tutto il price pool poi c'è di nuovo un sistema di t ring nuovo per le carte e poi ci sono tutta un'altra serie di cose che possono essere interessanti ad esempio le special weekly all'interno appunto di questa transizione che vi ricordo inizierà il 29 marzo vedete qui c'è un primo riassunto qui sostanzialmente spiegano proprio brevissimamente cosa succederà d'agosto andatevelo a cercare il link sia di questo di questo blog come lo chiamano loro che dell'altro quello dove c'è proprio il price pool che è questo ve li metto qua in descrizione ma iniziamo eccolo qua riveliamo il nostro price pool allora prima immagine a largo che così vediamo meglio concepite questa live un po come questo sì esatto questo video un po come se fosse una live ovviamente in cui anch'io scopro le cose insieme a voi e quindi durante la fase di transizione ci sarà già le nuove competizioni sono le prime quattro che vedete premier league champions challenges e contenders che potranno essere giocate sia in classic che in in season ma sopravvivranno ancora fino ad agosto anche l'under 23 la global all star a 270 la 2 40 la 20 queste giocabili soltanto in classic qui spiegano un po come funzionano ti dicono che il loro obiettivo è quello di giocare con le classic season card per vincere delle season card per a quel punto finire vincere season card e cash sul podio nelle prime divisioni questo poi è la struttura ho visto che c'è la descrizione anche di come avvengono le promozioni e retrocessioni quindi lo vedremo tra pochino per poi appunto a quel punto giocare con le in season card per vincere cash questo è il nuovo circle loop che se uno si ricorda quello che introdussero quando che fecero vedere insomma quando introdussero le cappe ed insomma ci corre veramente un secolo perché questo è almeno alla vista e nella concezione semplice quindi voi giocate con secondo l'idea di sorare giocate nelle classic cinque carte avvale i boss sia in season che classica a quel punto salendo di division andate a vincere l'incision card rewards e poi vi andate a giocare nell'incision direttamente dove si possono schierare vi ricordo quattro carte più una classico se no tutte e cinque in season a quel punto cash reward e more parte tutto il 29 marzo con la game week 463 la fase di transizione i prize pool per i legacy competition si dice qua la global under 23 la global all star e la global cup ed varie ed eventuali rimarranno immutate durante la fase di transizione eccetto per una modifica che verrà portata alla global all star i cash reward fuori dal podio quindi fuori dai primi tre saranno riallocati diciamo così in bilanciamento con il nuovo modello di distribuzione dei crash prices quindi via i sordi fuori dai primi tre già questo mi sembra no ma non voglio dare giudizi leggiamolo insieme come sempre vabbè moniteremo il tutto eccolo qua il prize pool vediamo soltanto quello della champions in season velocemente lo vedete dalla quarta terza seconda e prima 2002 per il vincitore della division one e così a calare tutto il resto si premia in division one fino al 45esimo in division two fino al novantesimo nella tre sempre fino al novantesimo nella quattro fino al quarantesimo questo ovviamente in rara nella champions nella contenders dal della division one dal primo al sessantesimo nella due dall'uno al cento ventesimo così come nella tre uno cento ventesimo nella quattro uno cinquantesimo andiamoci a vedere il prize pool ad esempio anche di qualche classic in questa cosa della champions danno 389 carte nella division one vedete ci sono anche i primi tre premiati che vanno sul podio quindi primi tre premiati con cash scusatemi ovviamente oltre alle carte e ai boxes e poi sono premiati con carte fino al trentaseiesimo nella division 2 fino al novantatreesimo nella 3 fino al centesimo nella 4 fino al quarantatreesimo poi vedete ci sono anche delle percentuali non so se si vede bene nel video allargo magari adesso avendo allargato si vede meglio chi arriva nella top 5 della division 1 si prende 3 lit box chi tra il 5 e il 12 per cento due lit box chi tra il 12 e il 25 un lit box cosa c'è nel lit box ogni lit box contiene carte rare queste nella division one che possono essere costa dalla star fino alla t3 oppure t3 qua t3 t4 superrare or ovviamente level up items nella invece second division troviamo la percentuale ovviamente è la stessa cioè nel senso che la top 5 prende 3k 3 3 box la top 5 12 2 e la top 12 25 un box però sono ovviamente box diversi per la division 2 sono premium per la division 3 sono standard per la division 3 4 scusatemi sono light e qui differenze anche cosa si può trovare perché nella premio si può trovare da star a t5 rara nella standard si trova da t1 a t5 rara nella light si trova da t2 a t5 rara questo giusto per fare un esempio di cosa possono essere i nostri reward box poi hanno fatto anche un sistema di aggiustamento del tier che al momento nella fase di transizione lo vedete qua applies alla premier league durante la fase di transizione ma poi si estenderà anche la bundesliga e la liga quando inizieranno le nuove stagioni ad agosto ovviamente questo va a colpire tutto poi ci sono anche specifiche competizioni appunto come vi stavo facendo vedere adesso questo secondo loro porterà un bilanciamento maggiore anche diciamo così diciamo sì un pepe al culo per i reward che puoi trovare quindi vedete questo è il bilanciamento si trova sempre questo link che vi metto sotto fino ad ora 2 per cento adesso il 5 per cento e così via insomma diminuiscono le tier più basse ecco qua questa era sostanzialmente il tearing viene fatta anche negli unic ma negli unic che non l'affronto perché è un argomento che non frequento insomma diciamo non ho quella ricchezza morale per potermi permettere le uniche qui c'è la descrizione di tutte le division questo è interessante come funziona in ogni competizione per ogni rarità sarà possibile creare fino a tre team quindi c'è il multi entry famosissimo alla fine di ogni game week ognuno dei team che vai a schierare può essere promosso promosso scusate può essere promosso o retrocesso o rimanere la stessa divisione naturalmente e vincere comunque ognuna di esse di queste tre squadre che poi andare a schierare indipendentemente una reward vedete ecco qua le division structure durante la fase di transizione saranno available per l'inciso nel classic season competition prever league champions challenges e contender il 29 marzo il vostro first team ricordo gv 463 sarà piazzato nella in una divisione che sarà basata sulla forza della vostra galleria rispetto a quella specifica competizione in cui andete a schierare in questo caso la forza della galleria è determinata dalla qualità delle carte che possiede possedete e che sono elegibili per quella specifica competizione fa un esempio una star premier league kart ovviamente contribuisce in maniera maggiore alla forza della vostra galleria nella competizione naturalmente premier league rispetto a una premier league t3 se poi vedete andate a inserire a schierare un secondo team questo competerà con rispetto al primo in una divisione sotto direttamente sotto al primo se invece andate a schierare un terzo questo andrà a competere in una divisione ancora più bassa dandovi così diciamo così l'eccitazione di partire da divisione bassa ecco qui l'esempio se voi avete un team divisione 2 uno sarà divisione 3 e l'altro sarà nella divisione 5 il limite ovviamente questo questa è la struttura invece di promozione retrocessione vediamo la limite tanto sono più o meno tutti identici ovviamente scala il numero del division nella limite partendo dalle 5 c'è un 20 per cento di retrocessione 50 di promozioni dalla 4 25 30 dalla 3 30 25 dalla duella 150 metti la rara è invece 20 50 30 30 50 20 la super rara 25 50 50 25 e la unica è una equità niente così insomma qui ci ha spiegato un po di robe vediamo se sono interessanti non mi sembra ovviamente vi dice di giocare ah eccolo qua i reward boxes quindi qui nell'introduzione spiega che sono stato un grande successo saranno integrati nel prize pool così vi darà anche quel brivido quel brivido in più di poter aprire anche un box e qui lo rispiega di nuovo durante la fase transizione i reward box saranno available nella nuova classic competition da sui dati non lo rispiega qui lo spiega questi box hanno insomma vabbè il potenziale di sbloccare carte da tutti i tier e tutte le rarità come l'abbiamo visto prima nell'immagine che vi ho fatto vedere con anche insomma level up items che sono molto interessanti che ti possono aiutare insomma a competere ovviamente attraverso le game week allora interessante vedere questo passaggio perché spiega una questione dice vabbè carte incredibili reward di carte incredibili li aspettano nei box prendiamo ad esempio la divisione 1 classic champions league i primi 11 guadagneranno vedi for the top 11 anche di week quindi chi i primi 11 di ogni week riusciranno ad avere 11 star cards in più a questo altre quattro star verranno distribuite negli elite boxes che potranno essere vinti in quella divisione ogni game week insomma comunque particolarmente interessante poi dice ricordati che più alta la divisione maggiore sarà il numero di carte di alta qualità che saranno disponibili nei boxes a questo anche la percentuale di guadagnare una carta nei box dipenderà ovviamente dalla competizione sta più o meno fra il 4 e l'8 per cento ovviamente come l'abbiamo abbiamo visto una posizione migliore può garantirvi fino a tre boxes e questo vuol dire che uno può avere il 10 25 per cento di guadagnare una carta dai box loro puntano molto sulle special weekly vedi giocano now play giocano un ruolo importante nel fornire nuovi format innovativi nel gioco hanno aggiunto varietà al gameplay e possono diciamo si implementare opportunità aggiuntive per vincere premi appunto eccitanti straordinari quindi diciamo per raggiungere questo obiettivo come dire faremo realizzeremo molto più frequentemente cioè special week più frequenti per far sì che gioco continuano in maniera fresco e insomma tenga appunto i manager così sulla graticola invece di buttarli in una competizione di due o tre mesi long format come era il winter special il primo è quello di mls ecco qua 150k parte il 22 marzo quindi dalla 461 ecco qua su 3 game week e vediamo come funziona l'entry system un po meno pignolo dell'in season quindi sono solo sono due le classic season che si possono giocare in limite ed in rara addirittura in super rare unica 3 si gioca nella 461 463 465 è un k di 280 c'è un sistema di multi entry quindi si può giocare fino a tre squadre e poi eccolo qua 150k il limite di 37 e mezzo 60 in rara 30 super rara 22 e mezzo in unica vabbè qui c'è scritto che ovviamente non abbiate timore ne arrivano delle altre infatti sono previste poi c'è la tabella con k league e j league ovviamente questo viene fatto perché certe competizioni sono andate a patire con il nuovo sistema perché k league e j league sono state buttate in contender dove ci sono milioni di altre come dire di altre campionati tra troppi dal mio punto di vista e così comunque anche mls perché andata adesso a competere non c'è più america che erano insomma non così competitivi come loro a parte alcuni casi rari diciamo diciamo nella media e invece insomma adesso si trova contro aere divisi e giupiter dove sono squadre insomma comunque competitive da un punto di vista di risultati e di i dati che opta fornisce quindi insomma io credo questa sia una delle cose che al momento mi hanno convinto meno quello di elevare la regionalità perché alla fine poi se uno parla di calcio di gioco di fantasy game di calcio che deve essere simile simile a ciò che succede nella realtà nella ci sono confederazioni diverse che in cui le squadre competono fra di loro per andare a vincere una champions in questo modo come è fatto adesso non è così ora è una superlega poi dice more fun to come quindi il divertimento non finisce qui siamo appunto molto contenti di espandere queste insomma bla 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 ci saranno insomma competizioni special special week dove ci saranno carte jerseys quindi magliette merchandise e ovviamente la once in a life experience che loro hanno già messo a disposizione con quella considerate bla 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 avevo sicuramente anche delle midweek più engaging di sempre e per esempio lo dicono vi possiamo anticipare che celebriremo una midweek europea nel latino america con competizione regionale ad aprile con la special week reformat dove ci saranno appunto specie regoli speciali e rewards veramente molto incredibile la competizione sarà capped e non ci saranno in season card a questo interessante in questa competizione avrà l'opportunità di vincere carte da tutti i team che parteciperanno a quelle zone ma questo vedi se vi è piaciuta poi qui dice la specialist jersey lover sarete sorpresi dal fatto che ci saranno concepts ancora più divertenti e più entertaining che daranno utilità a tutte le carte perché questa ovviamente era una di dubbi che erano venute fuori no quello di dove vanno a finire t4 e t5 e quindi siamo particolarmente entusiasti di sperimentare con nuovi format che includeranno alla possibilità di inserire le rival tactics come che che impressi entitica tiki taka le special week list insomma e anche competizioni dove sarà dove lo scorso delle collection sarà bustato per una determinata gpu mi immagino che nella cosa che dicevano prima loro intendessero roba tipo underdog come c'era prima insomma vabbè o capped 220 roba di questo tipo allora ecco vedi ogni fu ogni special week sarà annunciata due settimane prima prima dell'uscita della stessa competizione stiamo graduato a me gradualmente espandendo le nostre special week i nostri piani nostro calendario il nostro plans delle special week durante la fase transizione mentre ci sono ancora le global competition coprendo così tutte le cose che coprono così tutte le competizioni solare quindi aspettatevi che la social week di plans delle social week di venti sempre più ambizioso la prossima stagione quando la fase transizione sarà completata poi ultima cose velocissime coin rewards quindi finalmente forse si darà un valore alle coins che al momento saranno riviste vi daremo più informazioni e numeri una volta che ci avvicineremo alla fase transizione ma poi c'è un new com card format stiamo cambiando facendo cambiamenti alla matonella kick off per guidare i nuovi pro manager aiutarli insomma capire a fare progressi a imparare a giocare quindi immergeranno il draft e la team composition quindi i manager non drafteranno più otto carte swappando la settimana per settimana e quindi non ci saranno nel scegliere scendendole poi cinque da schierare no i manager direttamente chiederanno il loro team da tutti i giocatori a disposizione di quella determinata lega quindi premier league champion leggero contender senza restrizione di cap poi quando le game week la game week finisce i manager saranno avranno la possibilità di draftare altri cinque carte qualsiasi che 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 desiderano per la prossima e la successiva game week non rimangono come non rimangono common cards nella manager sgalleri come nelle live ok ok quindi ogni volta si cambia sostanzialmente quindi come parte di noi 65 calciatori se ho capito bene ovviamente se alcune cose non l'ho capite bene non l'ho lette bene scrivete nei commenti come parte integrale no pro game ci saranno anche relegazione legation e promotion quindi promozioni e retrocessioni che giocheranno un ruolo chiave nel nuovo format common i manager a quindi anche qui potranno vincere le word boxes così una volta che saranno promossi in due differenti competizioni la basic tutorial che è l'equivalente dell'amateur console common card e l'advanced tutorial con la kickoff dove c'è l'obbligatorietà di giocare una limited basic tutorial avanzo tutorial saranno disponibili per ogni stagione della in season competition e tutti i manager nuovi e vecchi potranno avere accesso quando saranno rilasciati ovviamente se hanno i requisiti per poterlo fare una volta che i manager vincolo ogni possibile reward nel tutorial di una specifica competizione il tutorial è completo a quel punto dovrete andare su a qui confermano casa valeva quindi confermano che viene fatta all'inizio della stagione o before c'è scritto va beh quindi abbiamo assolutamente ascoltato le vostre dubbi le vostre perplessità su sul fatto che le carte potenzialmente non siano disponibili quando la nuova stagione par di calcio parte e vogliamo insomma sottolineare il fatto che stiamo lavorando con costanza per assicurare che quelle carte siano pronte quando la stagione inizia perché vogliamo celebrare la partenza di una incredibile in modo incredibile della nuova stagione ad agosto insomma siamo lì pronti per far sì che tutto sia preparato per questa occasione poi le vamped lobby se l'abbiamo visto questo parla del sito mi sanno ok ma insomma video un po lunghetto ma dove spero di aver fatto capire tutto se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace questo permette ovviamente di scalare la ardua montagna di youtube del ranking di youtube e però quella cosa più interessante in realtà è che sarebbe che lasciate dei commenti per capire insomma quali sono i vostri dubbi le vostre perplessità suggerimenti anche per personale eventualmente anche solamente sono detto cose inesatte fare delle precisazioni vi ricordo il talaga vi ricordo il patrio detto questo buon solare a tutti e tutti ciao